Un gravissimo lutto purtroppo si è verificato oggi, 19 febbraio 2019. E' morto infatti il grande Karl Lagerfeld. Era un uomo di 85 anni di età, direttore creativo di Fendi e Chanel. Dunque il mondo della moda, il mondo dello stilismo si trova in un lutto che purtroppo viene a manifestarsi, viene ad apparecarsi in tutta quanta la sua interessa, in tutto quanto il suo imponente clamore. Vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi. Karl Lagerfeld riposa in pace. Amen. Grazie.